Si è svolto ieri pomeriggio al Damori di Grottaglie, davanti a un centinaio di spettatori, il Memorial Simone D'Autilio, per non dimenticare la scomparsa di un giovane ragazzo strappato alla vita terrena in età troppo prematura. I genitori e tutti gli amici hanno voluto ricordare Simone nel giorno del suo compleanno con una partita di calcio simbolica tra la squadra Juniores dell'Arset Labor Grottaglie e i suoi amici, tutti in maglia gialla, con alle spalle il mitico numero 10 e il nomignolo di Simone, Pinturicchio. Il pensiero e gli auguri sono volati in alto lì dove Simone ripose in pace. Il calcio era la sua passione e non ci sarebbe stato un luogo più appropriato se non uno stadio per ricevere gli auguri da parte di tutti. In campo armonia mista a malinconia per non poter vedere più un promettente Simone calciare il pallone, scattare sulla fascia e segnare gol. Dispiacere, rassegnazione ma anche voglia di aiutare chi deve affrontare le sofferenze della vita ed è per questo che è stata organizzata una raccolta fondi a favore della Onlus Cuori e Mani Aperte di Don Gianni Mattia che ha avuto un buon riscontro. Al termine dell'incontro terminato per la cronaca 2 a 0 in favore dei gialli Pinturicchio, saluti e abbracci e un attimo di forte silenzio per spingere sempre più su il pensiero e il saluto verso Simone. Grazie a tutti.